Un enorme masso allora Un enorme minchia come il mio Ciao a tutti ragazzi come sono Rutro Chicks Murray e benvenuti in questo nuovo video Oggi dopo forse un mese addirittura una cosa pazzesca Oh Frimason ma porco Sono spavolato Siamo tornati su Agar Siccome avevo nostalgia Beh oggi abbiamo un po' nostalgia Esatto e allora che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo chiamato nessuno e abbiamo fatto noi due Perché a voi piace lo stesso? Di una cosa nostalgica per fare vedere che è vero che abbiamo nostalgia Marte vs Italia che è stato il mio primo video su Agario Che merda che schifo Oggi siamo qua e cercherò di fare spandere l'ebola per tutto il gioco Allora i massoni mi can... Mi hai cagato la minchia Gian Piero devi andare via Va bene qua voglio un po' di ebola così almeno non gli fai morire a sti massoni Comunque a morri vorrei far notare una cosa abbastanza eliminata Dicami dicami Che nonostante non giochiamo da mesi a mesi I libertini murri e 600 sono sempre dominati Sì ma infatti ragazzi veramente abbiamo invaso un gioco Sono finito nel video di Pidupai Oggi ragazzi cercheremo di arrivare almeno in top 10 Di fare spandere l'ebola per tutto Agario E soprattutto di mettercela nel culo a quel cornuto di Gian Piero prestigiano No Vegito figlio di cagna Ti ha mangiato Vegito? No compa ho esclamato al por***o gratis Tanto vorrei dire le cose belle del mondo di oggi Hi Allora nella giornata di domani giorno 29 per voi chi oggi Giorno 29 agosto 2015 Parzialmente nuvoloso su tutta la penisola italiana Con punte di 30-35 gradi nel sud Italia C'è troppo caldo Ma che cazzo è Rigo Confirmed? Tipo il fratello scemo di Ringo? Ma vorrei far notare il tuo liberty al nono posto Cioè veramente Praticamente è ormai una regola È una legge Una religione Oh vai vai che me ne mangio un'opiez No che se lo mangio tutto Gianni Morandi Un'opiezza è merda Come un gop Oh por***o Ma veramente per capire da te brutto ebola del cazzo Cioè nemmeno ti ho infettato Ti ho indotto a suicidarti Proprio cattivissima questa cosa Quando uno si dice meglio morto che ebola Il nuovo detto capito Non parlare italiano perché non lo sai parlare l'italiano Ampa fai schifo Aspetta aspetta che questo qua mi sta sfiddando Sì E si mangia Kratos Oh you touch my ta-la-la Ebola è nono è decimo È decimo stiamo calmi perché l'ebola è in top ten Vai così mi stanno fidando Ma mi spieghi perché cazzo stanno fidando l'ebola Hanno paura adesso mi chiamo Oddio Oddio No 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 302 come le visualizzazioni di youtube No 301 come Stai zitto Hai capito ti hanno adottato Papà mi hai adottato Che ha detto Sono ottavo nel frattempo D'oggi vieni qua dai Fai un gesto Buono Buono Sesto Oh Gianni Morandi Toma c'è ficca Gianni Purt*****o Gianni Morandi Fai schifo Ciao Mi sta facendo l'agguatone Io me ne vado E io non ci casco ragazzi Mai cascare A chi vi regala palle Cazzo cazzo Ebola Rischia No Oddio 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 Meno male che è un faccia di cazzo Idiota E si è diviso Porco Oh 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 Piano 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 Pikachu si è diviso in 84 pezzettini Oddio Pikachu Oddio No Sei morto Io sono in top 10 Secondo te chi sono Indovina Faccio un indovinello Un indovinello Un giochino Un giochello Firefox Non è vero Simone Joker No non sono Simone Joker Chi sei Naruto No nemmeno Ma sei alto o basso Ma farelo tutto A questo punto Pacman Bravo Mi hai nominato e sono morto Io laggerò un po' Ti dico solo questo Sei Gesù compa Chi può laggare più di Gesù Internet Explorer Esatto Guarda che bella scena però compa Internet Explorer Insegue Pacman Esatto E' più lento di Pacman Proprio Microsoft vai a casa Fighi buttana Faffanculo Beh io mi mangio i palline Guarda che bello Paco pago paco 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 IAN Come faccio? Che merda? Sono lui, mister Popo No, sono decimo Sono morto Che vita breve che hai avuto, minchia Raggiù di una farfalla No, no Piano Murri adesso è tutto nelle tue mani Non fare cazzate Merda, 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 devo scappare, devo scappare Io sono detto i premi, sto facendo quattro stisce di coca Ti faccio vedere come diventa norma Sì, sì, sì Vieni qua, sesto Vieni qua, Waterfox, ormai fiddemi Ormai fiddemi, figlio di cane Sì, mi ha fiddato Ok, 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 stiamo calmi, non ce la fa tanto questa uccidermi Quinto, quinto Ma veramente, sto dicendo, ma che schifo Quarto, vai, vai, che c'è Finn Oh sì, sì, dai Dai che ci mangiamo Finn Siamo nella merda, siamo nella merda Siamo nella merda se si finisce Finn Oh, l'ho mangiato, terzo, terzo Terzo, vai, mister Popo Vai, mister Popo Niente, ci sarò un negro enorme nella mappa Però ancora per fortuna non lo vedo Vai, fiddatemi Fiddatemi Ma ti fidano perché hanno paura di mister Popo? Io in tutto ciò ancora non ti ho visto Quindi non sei sufficientemente grosso Oddio, terzo Mi sono diviso però Rischio Vai, 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 vai Finn, vieni qua No, 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 no Oddio, rega, che paura Oddio, rega, che paura Sono decimo No, porco Eeeh, attoro Boom, boom Ma te ne rendi conto come mangiaste paro paro, figlio di bottana? Il problema è che adesso più sono grande e più ci mette a riunirsi quando mi divido Cosa tu mangia? Boom Minchia, te è enorme, frate Boom Secondo Oddio, rega Oddio, rega Oddio, rega Abbiamo vendicato l'Ebola Devo fare una place con pa' di quelle proprio pazzesche Io penso, io penso di chiudere il canale Se arrivo primo veramente Madonna che enorme Pikachu No, 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 no Pikachu, un tormento, mi ha di nuovo inculato lui È stato bello finché è durato, vero frate? Ok ragazzi, questo video finisce questo Spero tantissimo che vi sia piaciuto Siamo tornati veramente col botto su Hagar Siamo stati secondi veramente per pochissimo Non abbiamo preso la prima posizione Spero che vi sia piaciuto Lasciate un bel pollice in su Arriviamo a 10.000 like per un nuovo video Se volete che continuiamo la serie E ci vediamo al prossimo video Wuhuu